E benvenuti ragazzi sono Game Masterita e sono qua con un nuovo video Allora ragazzi dovevo dirvi una cosa subito in fretta Che volevo dirvi che ho riaperto il secondo canale Cioè il mio primo canale Quello che avevo chiuso Già Per cui vi consiglio di iscrivervi di nuovo Iscrivetevi di nuovo perchè ho anche caricato un nuovo video Dove giocavo a Blockade Già Per cui ho deciso di creare Cioè di fare che questo canale Game Masterita normale Di usarlo per giocare Per usare giochi tipo la Play O Clash e il telefono E il secondo canale Game Masterita 2 Sì ho capito il nome Game Masterita 2 Userò per giochi del computer o O niente Cacchio devo andare Per cui niente Ciao ragazzi